Su iniziativa dell'assessorato Le Pari Opportunità della Regione Piemonte si è svolto nella sede del Consiglio regionale un incontro con Soraya Post, eletta al Parlamento Europeo con il Partito Svedese Iniziativa Femminista, che ha raccolto il 5,3% dei consensi. Al centro della sua agenda politica, i diritti delle donne, dei migranti e delle minoranze. Mi oppongo a ogni forma di discriminazione, certamente cioè molto importante per i nostri valori democratici, poiché la nostra democrazia è fondata sugli articoli dedicati agli diritti umani. L'uguaglianza tra i generi e in generale l'uguaglianza complessivamente si verificherà quando ci sarà il pieno rispetto di ogni individuo all'interno della società.